gentili telespettatori buona giornata sono stato a pisa non avevo visto ancora la torre di pisa solo una volta da lontano questa volta sono stato proprio sotto la torre di pisa bella impressionante volevo salire mi hanno detto devi andare la prenotare l'orario e tommo mamma lasciamo perdere allora non so mica voglia di mettermi a prenotare per salire sulla torre di pisa avrei dovuto farmi anche tutta quella torre a piedi vabbè andiamo in centro la strada principale è pieno di ristorantini ma ristorantini ristoranti dove come succedeva anche nella riviera adriatica fuori c'è qualcuno col menù così che invita quelli che passano ad entrare al ristorante col menù per far vedere ai clienti i prezzi voi direte caspita saranno prezzi vantaggiosi tra di loro si sfidano a chi al prezzo più basso e non propriamente allora hanno tutti i prezzi esposti e addirittura li espongono con orgoglio dice perché ridi e adesso ve lo spiego perché rido mi fermo ha detto sono e mezzogiorno ci fermeremo a mangiare qualcosa guardo i prezzi il prezzo c'era un scritto grosso no spaghetti col tonno erano col tonno spaghetti col tonno scritto grosso e vedo 20 euro 20 euro spaghetti col tonno quelli che mi faccio a casa mettendo la scatoletta di tonno che compro al supermercato spaghetti col tonno 20 euro poi vedo la fiorentina 47 euro al chilo spaghetti col tonno 20 quello che costava meno era tipo spaghetti al pomodoro 14 15 euro tonno 5 euro in più ho visto i primi che partivano da 14 15 16 euro 20 euro e oltre 25 euro un primo 28 euro non ho neanche guardato cosa costassero i secondi detto vabbè siamo alle solite città fortemente turistica cammino e devo schivare questi che vengono fuori con il menu cioè ti fanno vedere anche il menu come dire guarda guarda che prezzi infatti li ho visti i prezzi allora vi dico che io non ho problemi economici posso anche andare a spendere 20 euro un primo passiamo in quattro siamo in quattro se un primo mi costa 20 euro sapete cosa vuol dire mangiare in quattro dove minimo prendi quattro piatti prendi da bere e poi c'è la perché poi attenzione c'è il coperto che lo aggiungono c'è un euro e mezzo di coperto quindi 20 col tonno più un euro e mezzo 21 euro e mezzo la pasta col tonno quella che mi faccio a casa quando non so cosa mangiare e in quattro se vai in uno di quei ristoranti spendi non meno di 100 euro non meno di 100 euro no spendi 150 euro 150 euro allora come vi dicevo a me non mancano i soldi posso anche andare a mangiare lì erano pieni questi ristoranti erano stra pieni e tu dici caspiterina ma questi qua hanno tutti più soldi di me sono il poveraccio qui che cammina a pisa il punto è questo a me i soldi non mancano ma non non intendo regalarli in questo modo no io cosa faccio sempre prendo e vado a mangiare vicino pisa in un paesino sono andato a mangiare in un paesino vicino pisa che è a 200 metri fuori al cartello dove finisce pisa c'è un altro paesino lì vicino dove tu vai a mangiare in un ristorante pizzeria che è per i locali non è per i turisti quindi lì improvvisamente improvvisamente la pasta col tonno ti costa 10 euro non 20 più un euro e mezzo di coperto più del doppio e quindi ho detto sentite andiamo giriamo per pisa poi a un certo orario prendiamo la macchina andiamo appena fuori dalla zona turistica e paghiamo la metà non perché io come vi dicevo non mi possa permettere di spendere 150 euro però mi sento proprio rapinato cosa vi devo dire io non sono né tirchio né niente i soldi li spendo però in questo modo no e no in questo modo no no e poi no infatti mentre cammino lì per il centro c'è uno di questi col menù che mi sta aspettando e lì pronto con il suo menù sotto braccio per invitarmi io non ci ho neanche pensato stavo parlando con mio figlio dico senti luca guarda che qua per mangiare qui in centro devi essere un mezzo milionario con i prezzi che ci sono questo ha sentito col menù si è girato e ha fatto e guarda e guardava per aria quando siamo passati tra cavolo ci ha sentito insomma dai per mangiare qui o sei fesso o ti piace buttare i soldi ma c'è un'altra possibilità o sei fesso o ti piace buttare i soldi o c'è la terza possibilità quello che io ho notato ho notato che lì erano tutti turisti stranieri come a rimini anche lì tutti turisti stranieri seduti in quei tavoli senti parlare tutte lingue stranieri se tu sei italiano e sei seduto lì in centro a mangiare in un ristorante a spendere 150 euro vuol dire che sei benestante cioè uno che va lì e spende 150 euro è un italiano benestante non è il semplice turista ci fermiamo qui con la famigliola a mangiare ti è 150 euro 150 euro quindi gli italiani che quei pochi italiani seduti in quei ristoranti sono benestanti il resto sono stranieri ma stranieri benestanti anche no perché se sono turisti tedeschi dove c'è 15 stanno approvando 15 euro all'ora minimo come salario minimo in germania si guadagna almeno il doppio in svizzera si guadagna il triplo il quadruplo che in italia in francia si guadagna al 70 all'80 per cento in più pertanto oggi un turista tedesco o un turista giapponese che va a pisa a mangiare in centro quella pasta col tonno a 20 euro più un euro e mezzo di coperto è come 8 euro per un italiano che guadagna due volte e mezzo meno tre volte e mezzo meno capite che per un tedesco i 150 euro pesano tre volte meno che per un italiano quindi l'italiano deve essere benestante il tedesco lì può essere anche un impiegato che spende i suoi 150 euro perché magari ne guadagna 3000 al mese e 3000 alla moglie fanno 6000 in italia per fare 6000 devi essere un dirigente d'azienda grazie a tutti e arrivederci a presto a presto